Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare di Magia che è un brand dove si occupa di prodotti per la casa ma anche per vestiti per quanto riguarda la pulizia allora qui vi faccio vedere che cosa mi ha inviato allora partiamo da qui, da questo profumatore che è profumo di fiori, davvero buonissimo io l'ho spruzzato sulle tende, sui tappeti, è davvero fantastico dura fino a 72 ore poi qui abbiamo lo sgrassatore, super pulente sempre al profumo di marsiglia, quindi deterge, sgrassa e profuma poi qui abbiamo per i pavimenti, profumo di fiori, igienizzante qui abbiamo vetri e superfici con l'ammoniaca, davvero fantastico e qui abbiamo l'amorbidente concentrato, quindi va messo poco prodotto perché appunto essendo concentrato è a 50 lavaggi allora ragazzi, io vi consiglio di andare a vedere la pagina Magia c'è anche il sito magiaweb.it dove comunque potete andare a dare un'occhiata e vedere comunque tutti i prodotti che sia per la casa ma anche appunto per i vestiti, profumatori e così via quindi potete vedere tutto ciò io ringrazio l'azienda Magia per questi fantastici prodotti grazie grazie grazie